Musica USB Taranto ha incontrato questa mattina i lavoratori ILVA in amministrazione straordinaria al centro congressi cittadella delle imprese. Al centro l'integrazione salariale, il decreto cantiere Taranto e la riconversione e le bonifiche dello stabilimento. All'incontro hanno presieduto il coordinatore provinciale USB Francesco Rizzo, il segretario nazionale USB Sergio Bellavita e il relatore Michele Altamura. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS